Da te direttore, di fronte a quelle immagini stanotte, che hanno destato dal caldo e dal sonno un po' tutti, il primo pensiero qual è stato? Kennedy, Reagan, Lincoln, la violenza che rompe nella politica americana e cambia la storia. E poi il complottismo che già si scatena, pro e contro. E infine, però, se si è complottisti o no, ci sono molte zone d'ombra. La incapacità di proteggere un presidente, poi lo vedremo in dettaglio, ma sicuramente cito Elon Musk, per non citare anonimi, twittaroli, che dice o è deliberato o è incompetenza. In ogni caso ci vogliono delle dimissioni, delle strepizze segreti. Queste sono le prime cose. Ma la foto, questa, ma ancora meglio quell'altra, quella con la bandiera, secondo me è l'icona. E l'icona come fu Hiroshima, come fu la cattura dei racta. Questa è, purtroppo, per Biden, il vecchio Biden, la debolezza di Biden da una parte e la forza, la rabbia, il fight col pugno di Trump, che rendono, secondo me, la cattabianca più vicina a Trump che a Biden. Ancora di più dopo questo fatto. Anche a me è ricordato immediatamente Iwo Jima, però c'è anche un po' di Goncourt, sembra la Marianna, con quella mano, quella prospettiva che ha giocato la bandiera, e poi c'è anche Rocky, perché c'è qualche di barbarico. Allora, Gad, volevo darti questo spunto, perché Marianna Aprile, un'opinionista...